Spero tu sappia che... avrei... avrei fatto qualunque cosa per proteggere quella monella. Lo so. E so anche quello che stai pensando di fare a Tirnan. Specialmente adesso. E tu, detective? Non vuoi punirlo, voglio dire. Ha quasi ucciso tua figlia. Sì. Lo voglio, sì. Ma di sicuro lo farò seguendo le regole perché... credo in ciò che è giusto e sbagliato e... nel profondo penso che... ci creda anche tu. Tu sei il diavolo. Ma sei anche un angelo. Non sono sicuro di essere ancora un angelo ormai. Che vuoi dire? Dopo che ho ucciso Pierce e tornata la mia faccia da diavolo, non ho controllato se avessi ancora le ali. Non l'ho fatto. Temo di non averle più. Per un buon motivo. Beh, sai... Credo che dovresti vedere. Potresti sorprenderti di cosa scopriresti. La polizia ha finito. Grazie. Grazie per Trixie. Assicurati. Grazie.